Un itinerario unico tra le opere di Della Robbia, una famiglia di artisti che ha avuto un rapporto speciale con la città di Fogliano della Chiana. Nelle sue chiese un tesoro ricchissimo, i capolavori bianchi ed azzurri realizzati nel corso del 400 e dei primi decenni del 500. L'anno a Robbiano, un viaggio fantastico tra le strade, le piazze e le chiese del borgo che parte dagli egizi e arriva sino al XVI secolo. A Fogliano una serie di opere che parlano di maternità e del rapporto madre-figlio sin dall'epoca egizia. Per l'occasione sono infatti arrivate anche opere di età classica dal MAN, il Museo archeologico nazionale di Napoli. Il percorso si snoda tra la collegiata di San Martino dove è custodita la Madonna della Cintola, la chiesa di Santa Maria della Fraternita con la Madonna della Neve, la chiesa di San Francesco dove si può ammirare la Vergine dello Spasimo e Gesù e la Vergine che intercedono presso l'Eterno ed infine la collegiata che conserva l'ascensione di Gesù. Sino al 30 settembre a Fogliano sarà dunque possibile immergersi nella mostra diffusa, ma non solo, saranno organizzati anche una serie di itinerari robbiani ed ancora convegni, incontri ed eventi che metteranno in relazione la storia centenaria della città e la contemporaneità.